Se non ho un cavallo che mi segue e sono costretto a mettere pressione qua, a volte vedete i cavalli che tirate e girano la testa leggermente dalla parte opposta, si ferma, non viene. Allora, il motivo qual è? È perché questa parte qua viene tirata in basso, questo scorre e da quest'altra parte viene tirato in alto. Cioè fa questo, guardate eh, il filetto fa questo, vedete? Non è piacevole quel cavallo. Quello che dovete fare quando avete una situazione di questo genere, prendo questa parte qua, la tiro giù e faccio un cerchio così, ok? E lo faccio passare intorno alla testa al cavallo, passo intorno alle redini e ci faccio un bel nodetto, così. Se dovesse andare a mettere pressione, va a mettere pressione esattamente come se fosse la capezza.